Ma al primo posto la donna più intelligente dello zodiaco è, e sarà per sempre, e non mi schioderò mai da questa posizione. Quali sono le donne più intelligenti dello zodiaco? In quinta posizione troviamo la donna del capricorno. La sua è una mentalità da staccanovista, una donna molto professionale che spesso e volentieri la si può vedere in tailleur, con la valigetta 24 ore, che entra nel suo ufficio, probabilmente in un palazzone di cristallo. Ed è una persona che va fiera della carriera che sta facendo e che spesso professa anche molto carisma, perché essendo sicura di se stessa è una donna indipendente, che non vuole assolutamente avere nessuno al proprio fianco che risulta essere una palla al piede. Ed è per questo motivo che è intelligente, perché ha trovato la sua dimensione, la dimensione della donna indipendente. In quarta posizione troviamo la donna del segno dei gemelli. Per chi non conoscesse questo segno deve sapere che per natura è una persona che sa parlare, sa comunicare, non ha necessità di studiare l'italiano per impararlo. Probabilmente la sua capacità mentale, sin da quando è bambina, gli permette di apprendere più velocemente degli altri bambini. Ed infatti questo segna una persona che quando deve articolare dei pensieri, ci metto la metà, se non il doppio della metà del tempo rispetto alle altre persone, perché riesce a fare tanti pensieri e a convogliarli con un unico risultato, sempre in forma molto chiara e concisa. E soprattutto la donna dei gemelli è una persona curiosa e da tale riesce ad avere una versatilità nel scambiare argomenti e saltare appunto da un argomento all'altro con una facilità mostruosa. In terza posizione troviamo la donna del segno della riete. Questa è una donna estremamente sicura di se stessa. La sua autostima e il suo carisma gli permettono di essere invidiata praticamente da tutti, anche dagli uomini. Tanto è vero che se si ha a che fare con una donna all'interno di una coppia che è nata del segno della riete, l'uomo riesce probabilmente ad essere dipendente di lei, nel senso che sarà lei a governare e a guidare la relazione anche dal punto di vista economico. E molto probabilmente i due potrebbero studiare anche di fondare insieme un'impresa familiare dove la riete risulta essere il businessman, anche se sarà una businesswoman. La riete è intraprendente e la sua mentalità imprenditoriale non ce l'ha nessuno. Anche se qualcuno si mettesse a studiare dei corsi di imprenditorialità, la riete non lo supererai mai. Al secondo posto troviamo la donna del segno della bilana. Sua mente è letteralmente brillante, è una persona che non si ferma mai all'apparenza, la sua mente viaggia a delle velocità che non sono veloci ma sono ultraterrene, ovvero sono delle velocità che non sono calcolabili in metri al secondo. Qua si parla di velocità che sono intelligenza allo stato puro, ultraterrena. La bilancia infatti non è una donna che si fa mettere i piedi in testa così dal primo che passa, nonostante quest'ultimo sia una persona di alto calibro. Tanto è vero che è quel tipo di persona che se si trovasse all'interno di una realtà aziendale dove in ufficio spesso si ricoprono delle mansioni che ti mettono in un posto a livello sociale che ti fa sentire più o meno inferiore di un altro, alla bilancia questo non va bene. A prescindere che tu ti trovi più in alto di lei, devi rispettare la bilancia. E lei i piedi in testa non se li fa mettere. Ma la cosa più importante da dire di questo segno è che sa essere una persona sicura di sé perché se ne fotte degli schemi sociali. E questo la rende intelligente perché non segue il gregge, non è una pecora. Ma al primo posto la donna più intelligente dello zodiaco è, e sarà per sempre, e non mi schioderò mai da questa posizione, la vera. Questa donna è una delle più forti dello zodiaco mentalmente, psicologicamente e sentimentalmente. Partiamo dal fatto mentale. Sappiamo tutti come lei tende al perfezionismo e da tale chi è perfezionista non smette mai di migliorarsi. Quindi a prescindere che raggiunga ed ottenga dei risultati molto alti e sicuramente illustri, non sarà mai contenta di quello che ha e spingerà sempre sull'acceleratore. Poi perché è forte fisicamente? Perché la Vergine è una persona in salute, si muove spesso, fa tanto sport, e per chi non lo sapesse la medicina più potente al giorno d'oggi è lo sport. Chi si muove è una persona più forte anche psicologicamente e mentalmente, ed è per questo che lei riesce a rendere le due cose propedeutiche. È una persona che sa stare sul pezzo su tutti e due i fronti, ma anche sentimentalmente intelligente, perché non è una di quelle persone dove si ci può addentrare nel suo cuore come se fosse letteralmente una passeggiata dentro alla Lidl. Ma quando mai? La Vergine ti studia, ti scruta, è una persona attenta ai dettagli e se vede che c'è qualcosa che non quadra nella tua personalità, scusa microfono, ti caccia fuori a pedate, perché la Vergine non lascia entrare nessuno che non sia come ritiene lei. La sua intelligenza sta in questo. Non si troverà mai all'interno di una relazione tossica, perché lei, qualora trovasse qualcuno di estremamente piccolissimamente tossico, lo scarta come se fosse una nullità. Per cui la Vergine è la più intelligente dello Zodieco.